Prendiamone atto di questa cosa, chiediamone conto a questi signori, perché altrimenti continueremo a farci abbindolare dal nuovo paravento che arriva, che si presenta sempre meglio, sempre più finto, sempre più cazzaro, sempre più tecnologico, sempre più chiacchierone, ma che poi è la prova dei fatti là dove ci sarebbe da tirare su i soldi. Io non sto facendo un discorso moralistico, a me non me ne importa niente dell'etica pubblica, questa la diamo già per spacciata, io mi occupo di soldi, io dico questi soldi li vogliamo prendere o vogliamo continuare a pagare noi per le tasse che questi non pagano? E questo dobbiamo decidere, è una questione di nostro interesse, dato che noi i conti li dobbiamo presentare perché l'Europa i falsi in bilancio li vede, là sono reato, mica come da noi, se presentiamo conti falsi ci sbattono fuori. E per far tornare i conti o continuano a rapinare noi che paghiamo le tasse o cominciano a prendere i soldi dalle tasche dei delinquenti, dobbiamo scegliere, vogliamo essere governati da chi prende i soldi dalle tasche dei delinquenti o da gente che continua a prenderli dalle nostre tasche sempre più vuote, dobbiamo scegliere. Grazie.